E chiediamo ai viaggiatori tutti, uniamoci, regniamo l'attrazione dell'assanzito turco. La Turchia e il governo di Erdogan stanno combattendo la Siria del Nord, stanno massacrando il controculto di tutte le etnie che da anni stanno vivendo in questo territorio chiamato la Sala. Siamo loro che hanno fermato l'esercito reazionario dell'Isis. Non divendichiamoci di questo, vi ricordiamo che ogni giorno come pensa partono cinque voli della Turkish Island e volano indisturbati. rivendichiamo di essere contro ogni tipo di guerra, soprattutto le guerre come questa. Con silenzio compiacente dell'Europa e con compiacimento delle grandi potenze, i lavoratori della CUB ribadiscono ancora una volta, per l'ennesima volta, siamo contro la guerra, siamo contro il regime fascista di Erdogan, siamo contro la politica dittatoriale di Erdogan, siamo contro i massacri, siamo contro l'uso delle armi chimiche.